8 novembre 2014 davanti al Palazzo dei Marescialli c'è un sit-in con Ilaria Cucchi. Ilaria, di che cosa si tratta? La gente comune è qui oggi a dire che ha capito, io questo credo. È una cosa che ci scalda il cuore, che anche se nei tribunali è così difficile ottenere giustizia, ma semplicemente fa riconoscere la verità, fuori tutti sanno e tutti hanno capito e tutti sono indignati per quello che è successo. Questo ci fa capire che non siamo soli. Ilaria, qui davanti alla sede del CSM, al Palazzo dei Marescialli, è una protesta o ancora un nuovo attestato di fiducia a questa giustizia? Oggi qui è un ricordo di Stefano, è un pensiero a Stefano e del senso di queste candele. Non è una protesta, è soltanto un incontro composto per essere vicini. Non è una protesta, è forse lo sgomento delle persone, l'incredulità delle persone che nonostante tutto continuano a credere che poi la giustizia deve arrivare prima o poi. E non sempre è così. Grazie, Nere Cucchi.